E' un favore tutti a te! Calmi e tranquilli, siamo dei professionisti e nessuno si farà male. Alcuni indizi farebbero pensare alla banda ballazzata. Io sono Francis Stolatello, lui è nato ballazzata e deve stare al posto suo. Questi qua vanno eliminati con qualsiasi inelso. E ti rendi conto dei disastri che stai combinando? Puoi fare la guerra al mondo! Ci torna mica indietro, sai?